Autorimessa lavaggio Viale Magna Grecia 189B Taranto accanto alla clinica Santa Rita Servizio H24 Qualità, sicurezza e convenienza Parcheggio a ore, giornaliero, mensile Abbonamento mensile a partire da 50 euro per auto, 30 per moto Copertura assicurativa in caso di incendio, allagamento, furto Accurato servizio di autolavaggio, 12 euro per le auto, 15 per sub e fuoristrada Ti aspettiamo, avremo cura del tuo mezzo